Inizia un nuovo anno scolastico per la maggior parte degli studenti aquilani ancora nei MUSP. Per il tredicesimo anno ci si ritrova strutture spesso ammalorate dal tempo che avrebbero dovuto essere solo provvisorie. Sebbene il Comune abbia tentato di imprimere una svolta eliminando passaggi burocratici insopportabili, la realtà è che solo due scuole sono ricostruite. Uno dei casi emblematici denunciato più volte dalla Commissione oltre il MUSP è quello della scuola di Sassa, che ancora attende la ricostruzione, dislocata ora in due sedi, in due MUSP. E' emblematico perché ci sono i soldi, 8 milioni di euro circa, e c'è pure un progetto che fu presentato nel 2018. A ripercorrere i passaggi della vicenda è Silvia Frezza, una scuola che ha visto cambiare negli anni localizzazione, a causa di faglie nel terreno scelto e tempi di consegna, ma ad oggi non si sa a che punto si è. Eppure su questa scuola c'era stato un bel percorso partecipativo, che aveva coinvolto tanti attori e un masterplan che teneva conto non solo della scuola ma anche del territorio consegnato nel 2015. Ma da allora se ne sono perse le tracce, fino a quando nel giugno del 2018 in una pomposa conferenza stampa presso l'auditorium del Parco del Castello il sindaco annunciò l'inizio imminente dei lavori per la ricostruzione e doveva iniziare appunto nel settembre del 2018. Sembrava imminente poi l'annuncio del comune per la posa della prima pietra di questa scuola ma ad oggi sembra tutto bloccato o silente e la speranza di avere la scuola è anche in una lettera scritta in classe dai bambini di una classe per il sindaco in cui chiedono una scuola vera, sicura e attrezzata che li permetta di avere finalmente spazi doni alla loro crescita scolastica. Di presa in giro, in presa in giro, vorremmo sapere oggi all'inizio del tredicesimo anno nei MUSP, nei moduli ad uso scolastico provvisorio quanti altri anni ancora dovremo continuare a lavorare, a studiare nelle lamiere prima che una comunità scolastica così numerosa, più di 420 alunni e alunne abbia diritto ad avere di nuovo una sede, un edificio scolastico all'avanguardia e sicuro al 100%. MAZIE CENTO MAZIE CENTO